E' fuori forte Sardoni, Sardoni, Magliau, un leggero spunto in più e prende in comando, va avanti a Sardoni, finisce in cantina, c'è il cappellaro, con questi meccanismi, ma arriva anche Pazzani della libertà se non fa cosina, queste le prime 4 posizioni per entrare direttamente nella finale della categoria 40 e over per Ronser. I fronti di D5 al cancelletto di partenza, Ronser, Ronser, Giacomo, Simonello, Giorgio, Gianetti, Ragnero. Andiamo a vedere.